dell'Università di Torino e dell'Accademia naturalmente delle Scienze e parlerò sul tema la città al tempo del coronavirus. L'epidemia da coronavirus sta generando una crisi economica molto grave, senza dubbio ci dicono gli economisti, la più grave dal secondo dopoguerra. Disuguaglianza sociale e incertezza di persone e famiglie aumenteranno, certamente, e per le fasi che già in passato erano più incerte, diciamo così, le conseguenze potranno essere drammatiche, anzi sono già cominciate a essere drammatiche. Naturalmente i governi nazionali e regionali cercano di correre ai ripari, avendo di fronte due ambiti di decisioni da prendere, come fronteggiare i problemi di salute pubblica e come fronteggiare la crisi economica generata dal coronavirus e questo secondo è un ambito di decisioni che anche si divide in due, come e con quali risorse soccorrere le fasce di popolazione impoverita e quali e quante risorse destinare invece alla ripresa economica. È davvero un contesto di decisioni e misure politiche difficile da equilibrare in condizioni generali di incertezza. Questo non è però esattamente il tema della nostra conversazione di oggi, che riguarda più precisamente la città. Quelle condizioni e decisioni generali che dicevo sono sullo sfondo e per noi il problema è come entrano in questo quadro le città, come riusciranno a metabolizzare, per così dire, le decisioni generali. Come sono attrezzate a farlo? C'è però qualcosa di importante ancora da precisare e che riguarda in particolare il riavvio dell'economia, che sta diventando il problema principale di oggi. Il punto è che dobbiamo considerare le città, le loro capacità di reazione alle difficoltà di oggi, perché sono fondamentali e autonomi attori di sviluppo economico e coesione sociale. Non sono dei semplici esecutori, come dire. Le città sono, per così dire, società tutte intere. Sono società locali, insiemi più e meno grandi di persone che su uno spazio insistono e su questo interagiscono in sistemi più o meno strutturati di economie, culture, organismi politici che sono fra di loro relativamente congruenti. Questo significa che le nostre riflessioni potrebbero evidentemente orientarsi in una quantità di direzioni diverse e, come avete sentito, io sto limitando progressivamente il quadro di osservazione, come è indispensabile se voglio fare un'analisi gestibile e sensata. E aggiungo allora ancora una cosa, che quanto dirò sono alcune considerazioni sulle città italiane sollecitate dall'evenienza della pandemia. Ci precisamente presenterò argomenti per riflettere su aspetti delle nostre città che lo stress dell'epidemia fa emergere. Ecco, questo è il significato del titolo che ho dato, la città al tempo del coronavirus. I geografici insegnano che non esiste un altro continente che, come l'Europa, ha un sistema urbano così denso di città, alcune più grandi, ma soprattutto molte medie città, oltre a centri minori, che hanno equilibrato la distribuzione della società nello spazio. È con riferimento a questo sistema urbano equilibrato che, nelle politiche dei diversi paesi e nell'Unione Europea, si è coltivata l'opportunità di investire con particolare attenzione sulle società locali e sul concetto di paradigma dello sviluppo locale. In questa prospettiva, le città sono considerate motori dell'economia, che stimolano la crescita di un paese, generano posti di lavoro, migliorano la competitività in un'economia globalizzata. Le città sono anche i luoghi dove si organizza la vita delle persone, dove le persone concretamente si misurano con le loro necessità e i loro problemi quotidiani. E i problemi della società di oggi tendono a concentrarsi nelle città. Basta pensare ai fenomeni della povertà, della segregazione, della disoccupazione. Sono dunque necessarie politiche integrate per le città, che riconoscono le caratteristiche di ognuna, le sue potenzialità e le particolari necessità. Il punto però importante, e che voglio sottolineare, è che le città stesse sono decisivi e insostituibili costruttori e attori delle politiche multilivello di sviluppo e integrazione del paese. Non sono passivi esecutori. Le città sono state un ingrediente di primordine nella costruzione del modello europeo di sviluppo economico e coesione sociale. Dopo questa premessa necessaria, passiamo ora a dare uno sguardo, a volo d'uccello, alla diffusione dell'epidemia sul territorio italiano. L'epidemia è stata molto contenuta nel sud e nelle isole, come sappiamo, mediamente più elevata nelle regioni del centro rispetto a quelle meridionali e molto elevata nelle regioni del nord. Per avere stime attendibili di morti specificamente per coronavirus, un problema abbastanza complicato, si è pensato allora di calcolare l'eccesso di mortalità intervenuto nel marzo 2020 rispetto alla media dei decessi complessivi fra il 2015 e il 2019. L'eccesso è appunto una valutazione delle morti per coronavirus. Bene, l'eccesso si riscontra a livello nazionale, ma è concentrato per il 91% nelle aree ad alta diffusione dell'epidemia. Le province più colpite sono 7 in Lombardia, Bergamo, pensate, ha avuto un valore dell'incremento del 568%, e poi Cremona, Lodi, Brescia, Lecco, Paia, Mantua, due in Emilia, Piacenza e Parma, una nelle Marche, Pesaro e Urbino. Tutti gli scostamenti di queste province sono a tre cifre, ma subito sotto, con scostamenti a due cifre, troviamo altre 38 province, quasi tutte al nord e nessuna al sud. Il virus ha dunque colpito soprattutto un'area regionale dove è localizzato il motore economico del paese e questo a conseguenze per insieme del paese. La chiusura, quella che chiamiamo lockdown, e il distanziamento sociale hanno comunque interessato tutta l'Italia, con effetti diretti ovunque, ma deve essere considerata la disomogeneità indicata con l'immagine delle tre Italie del coronavirus che dicevo prima. Come reagiranno le città al momento del riavvio, in queste aree diversamente toccate? Beh, è difficile rispondere, ricordiamo che anche che non sappiamo cosa farà liquideria nel prossimo futuro, in Italia, nel mondo. Possiamo allora orientarci, forse, con uno studio del CERVED, che è una affidabile agenzia di informazioni commerciali e che ha fatto una ricerca importante sullo stato di salute delle città metropolitane nelle circostanze attuali. La previsione è riferita ad alcune ipotesi di scenario e le previsioni settoriali che hanno elaborato sono state proiettate sui dati di bilancio di 800.000 società di capitali, arrivando poi a previsioni che riflettono le specializzazioni produttive delle città e il diverso grado di esposizione delle economie locali all'epidemia. Torino e Venezia sono le città destinate, in ipotesi, a perdere una percentuale maggiore dei ricavi del 2020 rispetto a quelli dell'anno precedente. E anche nell'intervallo più ampio 2019-2021, che vedrà per tutte le città una certa risalita, sempre sarà questa purtroppo prima posizione negativa. Nello scenario più favorevole tra quelli che si possono ipotizzare per il futuro, la perdita di Torino è rispettivamente meno 14,4% e meno 4,1% nel bienio. Quella di Venezia grossomodo è la stessa, appena meno, e Genova è la terza città metropolitana più colpita. Al lato opposto troviamo due città meridionali, Bari, meno 10,6, meno 2,3 e subito dopo Catania. Le città meridionali sembrano dunque resistere meglio, anche se le perdite sono elevate anche al sud, ma è un giudizio da pesare. Cagliari, Bescina, Napoli, Palermo, per esempio, resistono previsioni appena meno pesanti delle città del nord di cui dicevo. È però importante rilevare che Torino e Venezia erano già città metropolitane del nord in evidente difficoltà. Una ricerca del Comitato Rotte Centro in Audi ha documentato che fra il 2001 e il 2016 Torino era scivolata dal quinto al settimo posto per valore aggiunto prodotto e fra le città del centro nord precedeva ormai solo Venezia. Come vedete Torino e Venezia erano già in difficoltà in presidenza. Non sarà facile né immediato riprendersi per le città con le loro economie, né a nord né a sud. Si può però pensare che questa possa essere l'occasione per un rilancio di innovazione e produttività. Questo è possibile e auspicabile, anche se non sarà senza costi nel passaggio. In considerazione di quanto si è detto sulle città del sud, meno toccate dal virus e in minore difficoltà economica rispetto al nord, è questa una condizione che fa prevedere una rimonta del mezzogiorno nel divario storico che negli ultimi anni si è ancora approfondito, come sappiamo. Qui possiamo fare riferimento a una ricerca, per avere qualche indicazione, a una ricerca del Formez, che è l'agenzia che da molti anni studia l'economia del mezzogiorno. Con riferimento a un insieme di indicatori, lo studio considera la diversa situazione di partenza per calcolare in ipotesi perdite, possibilità di reazione e incisività delle miture di sostegno. Per quanto riguarda il prodotto interno lordo, la previsione è che una risalita nella seconda parte dell'anno comporterebbe per il 2020 una perdita al centro nord, meno 8,5, superiore a quella del mezzogiorno, meno 7,9. Nell'immediato dunque gli effetti diretti dell'epidemia e la chiusura sono più costosi per il nord e questo conferma quanto abbiamo detto prima per le città metropolitane. Però vale più in generale, in ipotesi, anche per le città medie o centri minori. Tuttavia, nelle previsioni Svimez, più lenta sarà successivamente la ripresa al sud dopo, perché il sistema produttivo non si è mai completamente ripreso dalla precedente grande crisi del 2008. Queste previsioni ci dicono di non cedere a facili ottimismi per la ripartenza del sud. Però, e abbiamo pareri e ricerche importanti che ce lo dicono, il mezzogiorno ha punti di forza e di eccellenza nella economia reale, come la chiamano gli economisti, con possibili complementarietà settoriali non sfruttate e da combinare con l'integrazione fra agricoltura, industria, turismo, logistica, infrastrutture. È il momento opportuno per riconoscerlo e per agire valorizzando le opportunità. In questa prospettiva, e torno più direttamente al nostro problema, le città vanno riconosciute come attori decisivi nel mezzogiorno. Ed è proprio osservando le città che una ricerca ha confermato poco tempo fa che la dotazione di risorse per lo sviluppo è notevole, spesso attenzione non inferiore comparativamente a quelle di molte zone del centro nord, ma è carente, questo è il punto, la loro attivazione e per l'attivazione di queste risorse sono decisive appunto città che funzionano. Entra in gioco al riguardo la capacità di azioni coordinate tra misure centrali e azione locale e a livello locale fra attori pubblici e privati con progetti orientati alla produzione di infrastrutture, beni e servizi collettivi che creino ambienti favorevoli a investimenti concordati, non un consueto semplice sostegno diffuso a imprese che spesso ha riprodotto reti clienterari senza generare sviluppo autosostenuto. Le dotazioni di partenza sono diverse secondo i casi, a volte sono carenti, possono un punto di avvio è difficile, lo è per lo stato dell'economia, della politica e dell'efficienza amministrativa, ma non mancano nel recento passato anche dei segnali positivi. Tocchiamo però qui un punto delicato, importante. Le difficoltà di costruire una governanza appropriata, vale a dire un'individuazione delle linee di sviluppo di un sistema locale, elaborate e concordate fra attori della politica e rappresentanti della società civile, nel senso che dicevo un momento fa, non è un problema solo delle città meridionali. È invece il punto decisivo in generale per tutte le città. Da molto tempo sono un orientamento, una pratica elaborata in diverse varianti di molte città europee, definita di solito pianificazione strategica. Sono pratiche attivate su base volontaria e su iniziativa dell'autorità politica di governo senza che siano creati poteri delegati per l'elaborazione di programmi con la partecipazione dall'inizio di attori pubblici e privati implicati in un ambito specifico che si impegnano per la loro attuazione con azioni congruenti. Sono politiche che interpretano le opportunità dello sviluppo locale. Nelle città che hanno saputo cogliere questa opportunità, come dicevo, le decisioni di rilevanza pubblica sono prese con il concorso esplicito, continuativo, di diversi attori, istituzioni pubbliche, associazioni, agenzie tecniche, imprese, università, fondazioni. Lo scopo è trovare soluzioni che abbiano sufficiente consenso e nelle quali i diversi interessati, mantenendo la loro autonomia, si riconoscono e si impegnano, in modo da stabilire un coordinamento delle loro azioni nel tempo e di ottenere degli investimenti in varie parti del sistema locale che arrivino insieme all'appuntamento. Il perché di uno stile di governo del genere è presto detto. In una situazione nella quale imprese, persone, capitali possono oggi facilmente spostarsi, è necessario che i diversi attori pubblici e privati si riconoscono in un sistema e sviluppino strategie che riproducono nel tempo l'effetto di sistema, valorizzando così anche le convenienze della partenenza in un luogo, in una città, nel suo interland. Non è un processo facile, ben inteso, perché interessi diversi sono in gioco. Sono possibili comportamenti non cooperativi e più indirizzi strategici, strategici fra i quali mediare o scegliere, possono entrare in conflitto fra di loro. Il problema però, ricordiamoci, non sono i conflitti, sono i conflitti che non portano da nessuna parte. E dunque è un processo che richiede una decisa leadership politica e una fiducia reciproca sufficiente per collaborare. Le politiche per lo sviluppo locale non sono evidentemente l'unico strumento di politica economica nazionale, ma introducono in queste la potenzialità delle economie locali per lo sviluppo complessivo. Anche in Italia si sono avviati nei decenni scorsi diversi esperimenti del genere. Il primo è stato proprio il piano strategico di Torino, elaborato nell'ambito di Torino internazionale, un'associazione con i caratteri che ho detto alla fine degli anni 90. Bisogna però dire che questa capacità di progettazione concordata della città, negoziata fra attori che si riconoscono e si impegnano pubblicamente in un progetto concordato, formalizzata in forme associative, non ha fatto molta strada in Italia. Anzi, è regredita. Le ragioni sono molte. Tante, per cominciare, si sono susseguite forti crisi economiche generali e l'economia italiana è stagnante da ormai molti anni e altro ancora. C'è però un elemento cruciale che va messo in evidenza, perché riguarda il quadro istituzionale in cui anche quelle forme di regolazione locale diventano in altri paesi possibili e durature ed è un elemento che salta agli occhi proprio in quanto differenza rispetto alle condizioni di altri paesi con cui di solito ci confrontiamo. In Italia è mancata una politica urbana a livello nazionale che è presente altrove in Europa. La mancanza di un quadro normativo adeguato e di una regia complessiva non ha favorito il coordinamento necessario multilivello e un'azione locale integrata per progetti di sviluppo e coesione locale robusti con obiettivi di lunga durata. Per questo anche importanti iniziative innovative che non sono mancato hanno assunto spesso un carattere volontaristico, parziale, occasionale, legate magari a eventi transitori. E nel tempo è emblematico proprio il caso di Torino che da avanguardia in questa direzione ha progressivamente abbandonato lo schema della pianificazione strategica e questo ha portato alla regressione di oggi che ho documentato prima. È quasi paradossale e triste dirlo. In sostanza è mancata in Italia una vera politica per le città che, riconoscendo la loro natura di attori per lo sviluppo e la coesione sociale, la dotasse di risorse materiali e istituzionali per farlo in via ordinaria e sistematica. Una politica non solo per sostenere la crescita delle città più dotate, ma per sostenere la convergenza di quelle meno favorite o in ritardo. L'insieme delle città italiane che si presentano all'appuntamento con il coronavirus non è dunque in buona salute, va riconosciuto. Molti studi comparati con altre città europee lo dimostrano e avvertono che la crisi delle città deve essere considerata una delle principali ragioni del declino economico del Paese. La popolazione si concentra sempre più in città, ma di queste cambia continuamente la conformazione, cambiano le funzioni, c'è una recessione dei loro confini, secondo l'espressione del sociologo Guido Martinotti. Per esempio, che cos'è Milano? E' il comune di Milano di 1.350.000 abitanti? E' la città metropolitana di 3.250.000 circa? E che cosa dobbiamo dire della sua conurbazione, cioè del tessuto costruito urbano senza soluzione di continuità, che è la quarta più grande conurbazione d'Europa che comprende pezzi delle province di Como, Varese e Lecco? L'organizzazione amministrativa deve adattarsi per far coincidere per quanto possibile confini amministrativi e società locali e per attrezzare l'integrazione multilivelle. Lo stress della pandemia ha mostrato debolezze e inadeguatezze degli assetti precedenti. Le carenze per azioni rapide e concordate, efficaci di contrasto alla diffusione dell'epidemia e ora di sostegno per la ripresa, sono un evidente problema sulla divisione di competenze e funzioni fra Stato e Regioni, delle quali si discute molto, come sapete oggi. Però lo stress da coronavirus spinge a riconsiderare anche la posizione delle città nel sistema istituzionale complessivo. Di questo si parla molto meno. E però si tratta di un importante problema de jurecondendo, come dicono gli giuristi, che dovrà essere affrontato appena possibile. Ma intanto possiamo già individuare linee interpretative o raccomandazioni per l'agire politico immediato. Un'indicazione fondamentale al riguardo è la necessità di promuovere e poi valutare severamente e controllare nella realizzazione misure di sostegno per il rilancio della città che presentino progetti integrati di attori coordinati e impegnati al programma complessivo, non occasionalmente riuniti in una richiesta che altro non è che una sommatoria di interessi slegati. Sarà difficile e parziale come poter applicare questo principio nell'immediato, ma è importante già tenerlo presente come orizzonte di intervento per la ricostruzione. Credo di aver esaurito il tempo a mia disposizione. La vicenda del coronavirus ci sta insegnando molte cose e io spero di avervi dato qualche argomento per riflettere su alcuni aspetti delle nostre città che lo stress dell'epidemia fa emergere come avevo proposto all'inizio in vista della ripartenza e come intendevo con il titolo la città al tempo del coronavirus.